Ciao, lo sai che puoi fermare la violenza con un fiore? Puoi farlo sabato 18 e domenica 19 aprile nelle piazze della tua città, con le ortensie di Telefono Azzurro. Con la tua offerta sosterrai l'19696 e l'199151515, le linee d'ascolto di Telefono Azzurro. Una speranza concreta per bambini e adolescenti in difficoltà. Scopri la piazza più vicina a te su www.azzurro.it o al numero verde 800 090 335.